Salve, sono il dottor B, a quanto pare. Il mio lavoro consiste nello stare seduto a guardare i dipinti. Dunque, che cosa posso dire guardando in particolare su questo dipinto? Il primo luogo è che è un quadro bello grosso, un pregio straordinario. Perché se fosse stato molto piccolo, che so, microscopico, nessuno, temo, avrebbe mai potuto vederlo. E sarebbe stato un enorme peccato. Il secondo luogo, ecco giunti alla conclusione della mia analisi su questo dipinto. Il secondo luogo, dicevo, perché valeva la pena che quell'uomo seduto là spendesse ben 50 milioni di pregiati dollari americani per questo ritratto? La risposta è che questo quadro vale tutti i soldi che è stato pagato perché è un'immagine della madre di Whistler. E come ho imparato, frequentando la casa del mio migliore amico David Landy e della sua famiglia, le famiglie sono molto importanti. E anche se il signor Whistler era pienamente consapevole che sua madre era una orrenda vecchia baltracca, sempre ingurniata, quasi che avesse un cactus in mezzo alla chiappa, lui le rimase accanto. E trovò anche il tempo di dipingersi questo magnifico beta di tratto. Perché non è solo un quadro, è anche un'immagine di una decrepita vacca, immaginata, alla quale lui voleva un gran bene. E questo è meraviglioso. O perlomeno quello che gli ho messo.